E' giovedì 15 agosto, buongiorno e buon ferragosto a tutti. Con l'assistenza tecnica in regia di Donato Mignogna diamo il via al nostro primo spazio informativo. In apertura c'è la politica perché ieri pomeriggio il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Niro, ha firmato i decreti di nomina per le nomine negli enti subregionali. Un centinaio di persone, tra cui anche dei volti noti alla politica. Ma ascoltiamo tutto nel servizio. Si è concluso con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza prevista alla mezzanotte di ferragosto, la fase delle nomine all'interno di enti ed organismi subregionali. Il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Niro, a cui erano passati i poteri sostitutivi dopo la mezzanotte di lunedì, allorquando il Consiglio non era riuscito a completare la procedura prevista dalla legge, ha firmato nel pomeriggio i decreti di nomina. Circa un centinaio in tutto le designazioni, avvenute facendo sintesi delle indicazioni ricevute da tutti i gruppi regionali, di maggioranza e di opposizione, con la sola esclusione dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno inteso sottrarsi ad una procedura e ad un metodo che non condividono. Molti i nomi noti provenienti dalla politica, a partire da quello di Erminia Gatti, che è il nuovo tutore dei minori, Angela Crolla, esponente del centrodestra invece, nella commissione Pari Opportunità, Mino Dentizi e Pietro Montanaro nella consulta per i problemi degli anziani, e infine il sindaco di Venafro, Antonio Sorbo, che va a comporre il Consiglio dei Molisani nel mondo. Restano ancora alcune importanti nomine da fare, come le presidenze delle aziende regionali Moliseacque e Arsiam, che però hanno una procedura diversa spettando al Presidente della Regione e alla Giunta. Poche infine le altre caselle da completare che non sono rientrate nel potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale. Ma per queste bisognerà aspettare il prossimo 3 settembre, quando tornerà a riunirsi nuovamente l'Assemblea di Palazzo Moffa. Si chiude così una pagina che ha visto scatenarsi non poche tensioni all'interno della maggioranza, questioni che sono state sedate solo grazie all'intervento deciso del Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura. Sulla vicenda, tuttavia, sono da registrare la dura presa di posizione della Commissione regionale anticorruzione e le perplessità del Consigliere di maggioranza Nunzia Lattanzio. Alzare gli occhi al cielo con questa frase ispirata a un'immagine della Vergine Maria Assunta apre il suo messaggio di Ferragosto l'Arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini che invita a vincere la paura dell'insidia e della precarietà della crisi sociale ed economica. Bregantini sarà in visita pastorale fino al 18 agosto a Sant'Elena Sannita, paese di 281 abitanti in provincia di Isernia, noto per le maestranze dell'artigianato e dell'impresa profumiera. E oggi in Molise musei e aree archeologiche aperte. Sentiamo quali nel servizio di Tonino Danese. C'è chi a Ferragosto alle grigliate, in montagna o in campagna o a una giornata al mare preferisce dedicarsi in tutta tranquillità alla cultura, ad approfondire o in alcuni casi a scoprire le bellezze artistiche, storiche e archeologiche della nostra regione. Il Ministero dei Beni, le attività culturali e del turismo, come ogni anno, ha deciso di aprire le porte del patrimonio culturale statale in tutta Italia ai visitatori. Valorizzare musei ed aree archeologiche, palazzi, ville, castelli significa promuoverne la più ampia e completa fruizione, ha detto il Ministro Massimo Brai, anche in linea con il decreto Valore Cultura varato dal Governo. Oggi dunque anche in Molise porte aperte in diversi luoghi di interesse storico e archeologico. A Campobasso, in mattinata dalle 9 alle 14 e 30, nel pomeriggio dalle 15 alle 17 e 30, la possibilità di visitare il Museo Sannitico. Dalle 8 alle 19 invece il Museo Pistilli. A Civita Campomarano, ingresso consentito al castello dalle 9 e 30 alle 18 e 30, in quello di Gambatesa dalle 8 alle 19. Aperti anche il Parco archeologico di Larino dalle 8 e 30 alle 13 e 30, l'area archeologica e il Museo di Sepino dalle 9 e 30 alle 15, nel pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e l'area archeologica di Castel San Vincenzo dalle 8 alle 20. Visite consentite anche al Museo Paleolitico Lapineta di Isernia dalle 9 alle 19, all'area archeologica di Pietrabondante dalle 8 e 30 alle 19 e 30 e nel pomeriggio al Museo archeologico di Venafro dalle 14 e 30 alle 19 e 30. Sempre a Venafro, aperto oggi anche il Castello Pandone dalle 8 alle 19. La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, d'intesa con le sovrintendenze dei beni archeologici e storici, artistici ed etno-antropologici. Inoltre nel periodo estivo, fuori dai consueti orari di visita, organizzato eventi culturali e musicali. Ad esempio a Pietrabondante, domani sera alle 19, nell'area archeologica andrà in scena Liola. A Gambatesa, nel Castello, alla stessa ora il 18, concerto di pianoforte, mentre a settembre il 14 a Campobasso visite guidate durante la Notte Bianca al Museo Sanitico e a Quello Pistilli. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale del mattino, passiamo adesso alla rassegna stampa e andiamo a leggere le prime pagine dei giornali. E apriamo come di consueto con il giornale del Molise.it. Nomine negli enti regionali, ecco tutti i nomi, questa l'apertura del giornale del Molise, con Niro che dice, il Presidente del Consiglio regionale, ho seguito professionalità, competenza e indicazioni delle forze politiche. Questo è il pensiero del Presidente del Consiglio regionale. Le notizie in evidenza. Ferragosto, massima vigilanza sulle strade molisane. Nunzia Lattanzio, sempre più lontana dalla maggioranza sotto accusa le nomine negli enti subregionali. E sempre sulle nomine interviene la Commissione regionale anticorruzione che invoca il metodo tedesco e contesta le nomine appena fatte. Vediamo dalla Regione musei aperti a Ferragosto. Poi la Regione stanzia 4,3 milioni per le scuole dell'infanzia e le famiglie meno abbienti. Edilizia scolastica, parola d'ordine sicurezza, parte la mappatura delle strutture che ospitano le scuole. Vediamo poi come di consueto le notizie dall'Italia e dal mondo. Andiamo adesso a leggere con l'aiuto del nostro touchscreen, come apre l'informazione locale e partiamo da primo piano Molise. Anche qui in apertura le nomine, l'esercito dei nominati, firmati i decreti per le designazioni negli enti subregionali, l'elenco completo di tutori, esperti e consulenti. Niro non è stato un lavoro semplice, ma la Lattanzio prende le distanze. Chiedo scusa a chi crede nella politica. In taglio alto da termoli, bimbo si perde in spiaggia, ore di angoscia sulla costa. Il piccolo di sette anni si era allontanato fino a Petacciato. Intanto nei boschi di Macchiagodena è stato ritrovato il 69enne, di cui non si avevano più notizie da martedì sera. Andiamo a leggere poi a centro pagina le ferie dei VIP, in riva al mare o sui monti e relax la parola d'ordine della casta. Il vertice conteso per copo torna in sella, ruta però non molla e caos all'ASREM. Frattura ha reinsediato il direttore generale, dopo l'ordinanza del TAR di verbio in ufficio arriva perfino il comandante dei NAS per la festa dell'assunzione di Maria, alzare gli occhi al cielo, il messaggio di Bregantini. Vediamo poi la notizia dall'Abruzzo, vasto, niente falone e campeggi, un 15 d'agosto di Divieti. Andiamo a leggere poi la notizia da Montaquila. Punta pochi spiccioli e c'entra la quaterna. Fortunata sessantenne vince 216 mila euro. Le notizie sportive serie di Boiano su Genova si tratta con Di Matteo Eccellenza, fascia firma per il Venafro, Marroncelli verso il Campobasso 19-19. Il quotidiano del Molise anche qui in primo piano e in apertura le nomine, il pasticcio delle nomine verso i ricorsi. Ieri il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Nira ha firmato i decreti. I fortunati sono oltre 100. Rischiano di finire al TAR i casi di Gatti, Sorbo e dei vertici delle comunità montane. In taglio alto Asrem torna per Copomarruta, tenta il Blitz Ferragosto Ferie Made in Molise per i politici di Palazzo Moffa, al mare o in montagna, ma tutti in famiglia. L'indagine vacanze, i molisani innamorati delle spiagge del Salento. A centropagina invece la presa di distanza, dinunzia Lattanzio, il consigliere dell'Udeuro sulla vicenda nomine. Lo sfogo su Facebook, Lattanzio sempre più distante dalla maggioranza. Macchia Godena, allarme per un anziano, scomparso, ritrovato sotto shock. Da termoli, bimbo si perde e vaga per due ore. Tanta la paura. Alla Fondazione Giovanni Paolo II muore dopo l'operazione. Eseguita l'autopsia, le notizie sportive. Lupi Ferragosto di riflessione, si potrebbe riaprire uno spiraglio. Serie D, Bombergenchi sono al servizio del termoli. Serie D ancora. Agnone alla ripresa. Ci saranno anche Keita e Broso, sempre dalla Serie D. Il Boiano attende l'arrivo di altri tre elementi. Vediamo adesso i fatti del nuovo Molise che apre con la cronaca. Un bambino e un anziano si smarriscono, ritrovati. Giornata di vigilia di Ferragosto, caratterizzata dalla paura sulla spiaggia a Termoli e tra i boschi a Macchiagodena. Vediamo in taglio alto cosa propone i fatti. Petraroia, più fondi per le scuole, il sociale, studenti, nasce la carta degli sconti, selezioni, Miss Italia, il 17, la tappa di Scapoli, l'intervista, il molisano Caldoro e la sua idea di regione più snella e funzionale. Andiamo poi a vedere nel taglio basso questa curiosa immagine dei Simpson in vacanza che propone i fatti del nuovo Molise. Regione ora tutti in vacanza dopo le cento nomine. Sul lato sinistro di Spalla, Campobasso, Piazza Pepe, commercianti sempre scontenti, chiusura al traffico e orario della Movida. E' una notizia che rattrista tutti noi per la morte della moglie del collega Pietro Eremita a cui formuliamo le nostre condoglianze. Vediamo adesso invece la pagina interna del tempo dedicata al Molise. La notizia di apertura arriva da Termoli. La marineria sollecita il dragaggio del porto necessario ripulire al più presto l'intera struttura dalla sabbia accumulatasi nel corso degli anni. I sei metri di profondità della Darsena sono ormai solo un ricordo. Proteste dei pescatori. A centropagina una fotonotizia dei Vigili del Fuoco. Dopo una notte di ricerche, ritrovato l'anziano disperso a Macchiagodena, da Isernia, ecco le strisce pedonali bianco-celesti. Nel taglio centrale, sempre da Campomarino, controlli a tappeto dei NAS, scattano denunce e multe salate. In taglio basso, invece, da Isernia, la casa dello studente, apre i battenti da Campobasso. La regione stanza i fondi per le scuole, oltre 4 milioni, destinati al potenziamento dell'offerta formativa per l'infanzia. Andiamo adesso a leggere come aprono le prime pagine nazionali che hanno un'apertura pressoché simile, tutta dedicata ai fatti dell'Egitto. Repubblica Egitto, sangue e caos, massacro nelle piazze, centinaia di morti, Obama, fermatevi. I generali sparano sui fratelli musulmani, il vicepremier El Baradei si dimette per protesta, uccisi due. Reporter, vediamo di spalla, pressing degli avvocati, Berlusconi pronto a chiedere. La grazia, l'annuncio di Longo, subito dopo la smentita, Grillo attacca Napolitano. Vediamo adesso, invece, con l'aiuto del nostro touchscreen, come titola il Corriere della Sera. Bagno di sangue, Egitto nel caos, la polizia spara sui manifestanti, 278 morti musulmani in rivolta alla giunta militare, decreta allo stato d'emergenza, ira di Europa e USA, si dimette El Baradei, incendiate le chiese. Poi nel taglio basso, delusione di Berlusconi, ma riflette sulla grazia ai tormenti del Cavaliere, dopo le parole di Napolitano. E dal Corriere della Sera andiamo, invece, a leggere come apre l'unità, l'unità, il Cav di fronte alle dimissioni. L'ipotesi è sul tavolo e il PD è diviso. Scaiola le annunci prima del voto. In Senato gli avvocati si contraddicono sulla richiesta di grazia, ma Berlusconi non sa cosa rispondere al colle sulle sentenze. Da rispettare a centropagina, invece, una foto notizia scioccante, terrificante, sangue e caos. L'Egitto brucia, 150 morti, uccisi. Due reporter, la polizia sgombera ai sit-in dei sostenitori di morsi, i fratelli musulmani, migliaia di vittime, uccisi due giornalisti, proteste in tutto il paese e chiese bruciate. Stato di emergenza per un mese, il Nobel El Baradei si dimette da vicepresidente. L'avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che anch'esso apre sull'Egitto. L'Egitto è nel caos, esercito contro i fratelli, strage al Cairo, bruciate 22 chiese, almeno 150 morti negli scontri durante gli sgomberi dei sit-in per morsi. L'ira degli USA scatta il coprifuoco, lascia il vicepresidente El Baradei. E questo era l'avvenire. Andiamo invece a leggere la prima pagina nazionale, quindi del Tempo. Apre su Berlusconi. La Grazia diventa un rebus caso Berlusconi. I legali del CAV aprono alla richiesta di Clemenza al Quirinale. Sisto, PDL, presto le carte alla Giunta del Senato. Molti dubbi sulla incandidabilità. vediamo anche qui una foto che arriva dall'Egitto. Egitto in fiamme. Centinaia di morti uccisi due reporter. Si dimette El Baradei. Poi si parla ancora di politica. I leader del futuro, Renzi e Tosi, provano la scalata ai due poli. Quindi centro-sinistra e centro-destra. Il manifesto, invece. Grande foto in apertura dall'Egitto. Fratricidio. Esercite e polizia reprimano le piazze dei fratelli musulmani, sparano sulla folla e fanno una strage. I morti sono centinaia. Uccisi anche due giornalisti. Gli islamisti assaltano le chiese. Copte si dimette il vicepresidente El Baradei e i militari decretano lo stato di emergenza. L'Egitto sprofonda nel caos. Questo era il manifesto. Vediamo invece come apre Libero, che ha tutt'altra apertura. Torna sul caso Berlusconi. Perché mezza grazia può diventare disgrazia. Tre domande a Napolitano. Re Giorgio pretende che Berlusconi invochi clemenza, ma altre volte non ne ha avuto bisogno. Vuole forse pensionarlo? E che farà quando arriveranno le altre sentenze? O se un PM cercherà di arrestarlo? Ci vuole una soluzione politica? Scrivono da Libero. Poi una foto a centropagina del giudice Esposito. Il giudice che ha condannato il cab Fondineri al Viminale. Spunta il nome di Esposito. Solo in taglio centrale o basso guerra civile in Egitto. Rischiamo l'invasione. Questa era l'apertura di Libero. Vediamo il mattino di Napoli che ha un altro tipo di apertura sua originale. Redditometro. I conti del fisco. Lotta all'evasione. In arrivo a casa i questionari della Guardia di Finanza. Le simulazioni a Napoli, Roma e Milano. Ecco i limiti di spesa da documentare. Poi vediamo qui una foto drammatica dall'Egitto. Egitto ora è guerra civile. 150 morti. Scatta lo stato d'emergenza. L'ira degli USA. Andiamo invece adesso a leggere la gazzetta del Mezzogiorno che apre con la vicenda Berlusconi. Il CAV ora pensa alla grazia. L'avvocato la chiederà ma poi frena. Stefano resta incandidabile. Grillo minaccia in caso di clemenza. Stato di accusa per Napolitano. Vediamo l'informazione economica. Invece cosa propone oggi? Il Sole 24 ore apre con questo titolo. Eurozona fuori dalla recessione. Il commissario Olli Ren. Timidi segnali di crescita. Avanti con le riforme. Germania e Francia guidano la ripresa del PIL nel secondo trimestre. Più 0,3%. L'Italia resta ancora indietro. Meno 0,2% con Olanda. E Spagna poi di spalle i legali di Berlusconi. In campo anche la richiesta di grazia. L'avvocato Coppi dice che è una delle soluzioni all'attenzione. Andiamo adesso invece a vedere in cartaceo come apre la stampa di Torino. Anche qui l'Egitto in primo piano. Caos Egitto. Centinaia di morti. Blitz dell'esercito contro i fratelli musulmani. Gli USA tradite le promesse. Stato di emergenza per un mese. Il vicepresidente El Baradei si dimette. Uccisi due giornalisti. Assalto alle chiese. In taglio basso. Berlusconi. Il rebus della grazia. Dice anche la stampa di Torino. Il messaggero. Egitto in fiamme. 300 morti. Strage dopo lo sgombero dei fedeli dell'ex presidente Morsi. L'esercito spara sulla folla. Stato di emergenza. Si dimette El Baradei. Assaltate le chiese e la biblioteca di Alessandria. Il messaggero ha poi un'intervista a Massimo D'Alema. L'intervista D'Alema può fare il leader fuori dal Parlamento come Grillo. E si riferisce evidentemente a Silvio Berlusconi. Il giornale di Milano. Sempre in gioco. La partita di Berlusconi. Grazia sì, grazia no. Governo sì, governo no. Il Cavaliere avrebbe deciso. Ma non è ancora tempo di muoversi. Giustizia. La riforma impedita da magistratura democratica scatta l'ora del referendum. Anche qui mani sporche di sangue in prima pagina. Guerra in Egitto. Charm trema. 6.000 italiani prigionieri. E ci si riferisce agli italiani in vacanza nell'Egitto in fiamme. Vediamo infine l'informazione sportiva con la gazzetta dello sport. A centropagina una foto. Higuain e insigne. Napoli gode l'amichevole del Papa all'Olimpico contro l'Argentina. Finisce con una sconfitta. 2 a 1. L'Italia delude. Il centravanti di De Laurentiis firma l'1 a 0 e fa l'assist del raddoppio. Poi c'è spazio per un gran gol del baby talento partenopeo. In taglio alto la Juve in Supercoppa. Domenica in campo all'Olimpico. Vucinic va a segno e scaccia. Lorente l'intervista. Parla il tecnico della Serbia che sogna l'Inter. Milan ora prendi Liacic. È un asso. Mi hai lo vicino. Ma se fossi nella Fiorentina non lo darei. Buone notizie per Balotelli. Martedì titolare con il PSV. E questa era la nostra ultima notizia in rassegna stampa. Come al solito e come di consueto l'informazione sportiva chiude la nostra pagina dedicata alla lettura dei quotidiani. A tutti voi l'augurio di un buon ferragosto. L'informazione di Telemolise torna alle ore 14 con il nostro telegiornale.